Buonasera, quindi vediamo subito quali sono i numeri di oggi. Il numero dei contagi dall'inizio dell'epidemia in Italia è salito a 119.827. Sono attualmente positivi 85.388 persone, più 2.339 in un giorno. Sono guariti nelle ultime 24 ore in 1.480, per un totale ormai quasi di 20.000 persone, 19.758. Ma i morti, i deceduti dall'inizio dell'epidemia sono 14.681 e nelle ultime 24 ore sono stati 766.